È un motivo di orgoglio perché sono stato il fautore di un accordo con il Movimento 5 Stelle l'ultimo anno, i dieci punti del programma, che erano gli ordini del giorno dei 5 Stelle, votati all'unanimità dal centro-sinistra, che diventavano dei punti che avevano una valenza politica. Quindi facendo un accordo che entro la fine dell'anno avremmo completato tutte quelle attività, cosa che stiamo facendo per buona parte dei dieci punti, si trovava un accordo per andare insieme alle elezioni. Poi abbiamo avuto problemi sul candidato, le primarie erano un altro elemento, i dieci punti, le primarie, diventava un laboratorio politico, per la prima volta i 5 Stelle partecipavano alle primarie. Sono rimasto male che alla fine hanno fatto saltare le primarie. Ma l'ipotesi di cercare un terzo? Anche perché si confrontavano due persone specchiate dal punto di vista morale, dal punto di vista della loro storia, che sono Vito Leccese e Michele Laforgia. L'ipotesi di un terzo candidato che possa ricompattare la posizione? Non lo so, è una scelta che faranno i candidati anche a livello nazionale. Io auspico l'unità dall'inizio, è un anno che ci provo, tant'è vero che sono stato il fautore di una sintesi anche nel centro-sinistra. Nel Partito Democratico ricorderete che c'erano tre candidati che volevano fare le primarie da soli e andare da soli. Ho cercato di trovare insieme alla coalizione una candidatura più di sintesi e purtroppo non ci siamo riusciti. Se ci riusciamo negli ultimi giorni, tanto di guadagnato. Grazie. 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 Grazie.